Caspita, una vacanza! Finalmente ci prendiamo una vacanza! Inghilterra, Grecia, Arabia, Krakatoa, Cina! Fantastici scali esotici! E noi non siamo andati in nessuno di questi posti. Invece eccoci qui, davanti a un vecchio diroccato castello in un posto fuori dal mondo. Lo so che sei deluso, Robin, ma abbiamo accompagnato il dottor Honeydew per la lettura del testamento di suo zio. È importante avere accanto gli amici in momenti così. Oh, io ho come un terribile presentimento, però, sai, zio Kermit? Sono sicuro che non c'è da aver paura. Uh, cos'è? Rilassati, Robin, è solo un albero. Niente di cui aver paura. Non è niente. Non riesco a immaginare niente che viva qui, a parte cose che non sono più vive. Su, su, signorina Robin. Lo zio Petri aveva una certa inclinazione alla teatralità, ma ti garantisco che siamo perfettamente al sicuro. Ah, un mostro! Stai bene, signorina Robin? Mi mimo, mu mu mu! Sveglia, ok? Cos'è successo? La buona notizia è che tu, Bicker, Pepe e il sottoscritto, siamo illesi. E la cattiva notizia? Purtroppo tuo zio Kermit, Miss Piggy e gli altri sono stati trasformati in orribili mostri. Oh, no! Oh, sì! Siamo riusciti a scappare e ho trovato il laboratorio segreto di mio zio Petri. Siamo al sicuro per ora, ma l'energia malefica del maestro sta permeando l'intero villaggio. Tutto in questa zona rapidamente diventerà malvagio! E quindi che cosa facciamo? Che piacere mi fa la tua domanda, mio giovane amico. Qui ai laboratori Mappet Europa abbiamo sviluppato speciali congegni che ti aiuteranno a riportare i nostri amici alla loro vecchia personalità e a salvare il villaggio in più. Allora, questo guanto magico ti permetterà di estirpare anche il male più tenace da qualunque tipo di mostro. Una volta rimossa, l'energia maligna sarà immagazzinata in questo capace zaino nel timore che possa tornare nel mondo. Devo essere ancora stordito. Mi è sembrato che dicessi che devo salvare tutti io. Ma certo! Lo zaino e il guanto sono appositamente progettati per l'anatomia degli anfibi. Caspita, che coincidenza! Niente paura, non sarai solo nel tuo viaggio. Bicchi e io controlleremo il tuo stato costantemente. Ma io... Mi sa che ti scordi da qualcuno, ok? Oh, terribilmente spiacente, signor Pepe, le mie scuse. Mi regolerò sul da farsi, ok? Io, Pepe e il regambero resterò collegato con questo comodo piccolo trasmettitore che vedi per suggerirte come muoverci dentro il villaggio. Sarà como se fossi il tuo copilota, ok? Quando vedrai la mia faccia, avrò da dirti qualcosa che ti sarà di aiuto. Kermin! Tuo zio Kermin, ok? Ah, lo zio Kermit! È quello che ho detto io, ok? Kermin! Oh, non lo so. Non ho mai fatto niente del genere prima d'ora. Puoi farcela, signorina Robin. Tuo zio e tutti i nostri amici hanno bisogno di te. Beh, chissà. Forse potrai anche tentare. Tentare? Ma che tentare? Fare o che? O non fare? Tentare non male o che? Ehi, bella frase. Auguri, signorino Robin. Vaglia con Dio, so che... Questo è il portale ok, da qui puoi accedere a qualunque parte del mondo ok, devi comunque avere abbastanza energia maligna per aprire alcuni livelli, ma ti servirà anche il gettone Muppet per aprire nuovi mondi da poter esplorare. La caccia è aperta, ok? Hola, come promesso, io, Pepe, sarò in onda per aiutarti a salvare Carmen e il resto dei nostri amigos, quando vedi il mio ricevitor, vieni e ascolta quello che ho da dirti, non fare il timido che... ... ... Ola! 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 E così verrà l'ora di arrampicarsi, ok? Mi servono solo altri due pezzi dell'amuleto orsomanaro Quando troverai l'ora di amuleto che fu mostro, ti potrai andare in la profondità, ok? E così verrà l'ora di un altro pezzi dell'amuleto orsomanaro Buon lavoro, amico! Il potere escalatore dell'amuleto orsomanaro waka waka è tuo, ok? Sono certo che sarai al di sopra di ogni situazione, da ora in poi Waka waka! Posso... Mi servono solo altri due pezzi dell'amuleto orsomanaro E così verrà l'ora di un altro pezzi dell'amuleto orsomanaro Dio mio, ti serve solo un altro pezzi dell'amuleto orsomanaro Sì! Ciao! Pronto per qualche intervista profondita? Eh? Jajajaja Il potere natatorio del suo esposo lo sigo mas pronto per andare in silenzio e profondità e explorare molto sottopio, ok? Racondi quattro pesi della moneta del naso pelato e diventerai subito un rano quieto volante, ok? Oh 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 Ti serve soltanto un altro peggio dell'amuletona sofferato! Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Al prossimo episodio 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 Al prossimo episodio